Lo scontrino è stato ritrovato, diciamo così, poco distante dalla cassaforte scardinata, ma nascosto, seminascosto, diciamo così, su un divano. Uno scontrino dimenticato per errore all'interno di un appartamento che avevano appena ripulito, tanto è bastato ad incastrare una banda di georgiani dedita ai furti in tutta la Toscana e probabilmente anche in Liguria. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Montevarchi in collaborazione con la questura di Arezzo hanno preso avvio a seguito di un colpo messo a segno lo scorso 23 agosto in una casa di Montevarchi, dove i ladri per aprire la cassaforte avevano utilizzato una smerigliatrice poi abbandonata all'interno dell'appartamento. Siamo riusciti appunto a risalire al luogo di acquisto dell'utensile, direi agli autori o perlomeno a coloro che si erano introdotti all'interno dell'appartamento. Le perquisizioni fatte sulle abitazioni a loro disposizione hanno permesso addirittura di risalire a una sorta di mestra di allenamento, dove praticamente venivano ricostruite delle serrature, delle chiavi e la possibilità di addestrarsi nello scardinare porte. A fare il resto i riscontri sulle impronte digitali che i ladri avevano lasciato su una bottiglia. Alcuno ha pensato bene anche di brindare alla riuscita del colpo, praticamente bevendo un ottimo prosecco, peccato che non ha avuto l'accortezza di portare via la bottiglia. Nei guai è così finita una banda composta da quattro persone, tutte di origine georgiana, di cui uno soltanto con regolare permesso di soggiorno. Sono state eseguite due ordinanze custodiali della rincarcere, più sono stati iscritti diverse persone nel registro degli indagati e sono state eseguite una serie di perquisizioni.